Una protesta di tutta la città, non soltanto dei residenti nei quartieri Vomere Arenella. Ed è per questo motivo, questa mattina, che si è spostata davanti al Consiglio Comunale, nella centralissima Via Verdi, la protesta dei comitati no box. Da mesi sul piede di guerra contro la giunta Manfredi per aver rispolverato il vecchio progetto di realizzazione di 800 garage sottoterra nella zona del mercatino dell'Antignano, i manifestanti della rete sociale hanno effettuato un volantinaggio a pochi passi dal municipio per invitare la cittadinanza a una grande assemblea pubblica che si terrà domani pomeriggio nella sala Nugnes del Consiglio Comunale. Dei rischi per il sottosuolo e del contesto ambientale che deriverebbero dagli scavi per la realizzazione del progetto ne deve parlare tutta la città, dice Franco Di Mauro, portavoce della rete no box. Noi stiamo proseguendo questa battaglia oramai da anni. Vogliamo allargare il nostro raggio d'azione. Fino adesso comitati, associazioni, residenti stanno protestando da anni contro questo progetto di box al vomero ma soprattutto contro una delibera che prevede la realizzazione di centinaia di box in tutta la città. Vogliamo che ne parli tutta la città. Noi vogliamo far sentire all'amministrazione comunale non solo la nostra voce ma la voce anche di urbanisti, di architetti, di sociologi, di persone, di opinione pubblica di questa città che vada oltre il confine che potrebbe essere magari limitativo dell'associazione, dell'ambientalista di turno o dell'abitante. Ma che c'è un'opinione in questa città di un'intelligenza pensante che però si oppone alla distruzione, alla devastazione del territorio così come stiamo facendo noi.